A distanza di mesi la Cassazione dà ragione alla difesa e anche al GIP sull'inutilità della richiesta da parte della Procura. Per Luigi Nerini ed Enrico Perocchio, due degli indagati per la tragedia del Mottarone, sono stati annullati gli arresti domiciliari. Per quanto riguarda Perocchio, direttore di esercizio della Funivia, la Cassazione ha annullato la decisione del riesame soltanto per quanto riguarda la scelta della misura, mentre non si è pronunciata sulle esigenze cautelari e sul quadro indiziario, che quindi rimangono confermati. Nei confronti di Luigi Nerini, titolare della concessione dell'impianto, la Suprema Corte ha invece annullato l'intero provvedimento del riesame. Ora si attendono le motivazioni. Lo scorso 26 maggio, tre giorni dopo la tragedia in cui morirono 14 persone e l'unico a salvarsi fu il piccolo Eitan di Pavia, Nerini, Perocchio e il capo servizio Andrea Tadini, furono fermati dal procuratore della Repubblica Olimpia Bossi e dal PM Laura Carrera, titolari dell'indagine. I PM avevano poi impugnato il provvedimento del Gipe. Lo scorso ottobre il riesame aveva rilevato l'esistenza di esigenze cautelari disponendo i domiciliari per Nerini e Perocchio.